gutta cavat lapiden a goccia a goccia si scava la pietra cosa significa è un proverbio che in pratica ci insegna a lavorare passo passo spesso chi studia chi affronta una problematica all'ansia di arrivare al risultato e quindi fa magari dei tour de force o pensa di rapidamente risolvere delle problematiche mentre soprattutto per la preparazione e per lo studio è fondamentale la continuità la costanza che è la quotidianità dello studio ad esempio lo studio delle novità normative lo studio della giurisprudenza lo studio delle norme anche una certa abitudine temporale studiare in certi momenti della giornata il nostro corpo si abitua a certi ritmi per cui questa goccia che piano piano scava la pietra è il percorso di formazione che poi porta ad avere i risultati sperati vi ringrazio a presto avanti tutta